eccoci 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 con una ragazza che ancora non ho capito che cosa festeggia perché non si capisce dalla maglia che indossa non si capisce dalla maglia che indossa dicelo tu aiutaci a come dire di sbrigare questo filo mi sposo il primo di dicembre si sposa primo di dicembre applauso 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 tra l'altro come certo certo poi la accompagniamo a tavola anche perché è quasi il momento della cena dicevo è anche bello notare dal punto di vista estetico e cromatico la gioia per il suo matrimonio con il colore chiaramente bianco e la gioia delle amiche che parteciperanno con il colore nero che è proprio manifestato chi è il fortunato dario da dove vieni da verona lui da dove viene da verona quindi voi da dove venite da verona la sigla automobilistica di verona verona no è vr hai ragione vr vr mamma mia mi cari mi cari mi cari mi cari sul più bello mi cari sul più bello allora visto che sei di verona sarai anche preparata sulla tua città facci una sorta di promozione turistica che tutti possono andare a vedere il colosseo andate giusto bello questo è proprio turistico turistico qual è il colore della maglia del verona giallo e blu è preparata è preparata chi è il capitano del verona non lo so quando ha vinto il verona l'ultimo scudetto tifo juve anche se sono di verona bene una ragazza che ha le idee chiare direi che è il momento di accompagnare la tavola che forse è meglio eccoci qua vai andiamo a sederci perché se no ci dice altre cose interessanti e potremmo distruggere la reputazione di anni e anni di universo benissimo siamo pronti anche le amiche si siedono aggiunge un po sta tavola pronte a vivere una grande serata al convento ciao ragazze buon divertimento un saluto